La Sicilia sarà in zona bianca dal lunedì 21 giugno. Oggi pomeriggio l'ufficialità, subito dopo la firma di un'apposita ordinanza da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ormai la Sicilia da oltre tre settimane ha un'incidenza settimanale al di sotto dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Ieri era 30. Un parametro che mantenuto per 21 giorni consente così il passaggio nella fascia con meno restrizioni. E il passaggio di zona è stato preceduto ieri da un'altra bella notizia per la Sicilia. Dopo nove mesi di continui bollettini che hanno scandito la triste conta dei morti per Covid, nelle ultime 24 ore non è stata registrata alcuna vittima. E con il passaggio in zona bianca stoppa il coprifuoco. Nessun limite per ristorante barra all'aperto. Al chiuso invece resta il limite delle sei persone al tavolo. Resta l'obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale. Riaprono le discoteche anche se non si potrà ballare in pista. Possono riaprire le piscine al coperto, i centri benessere termali, le fiere, le sagre, i convegni, i congressi, i parchi dematici e di divertimento, le sale bingo e i casino. Anche gli eventi sportivi che si tengono al chiuso sono aperti al pubblico. In zona bianca sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose dei matrimoni e delle comunioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale c'è da registrare il flop di AstraZeneca. Appena 37 prime dosi somministrate ieri a over 60 in tutta l'isola. La percentuale di popolazione totalmente vaccinata con ciclo completo è pari al 23,3%, a cui si aggiunge un ulteriore 22,6% solo con prime dosi. Ed è arrivato l'atteso Green Pass. Sarà il via libera per viaggi, spettacoli, partite e quanto altro si potrà fare in quest'estate post-Covid. In formato digitale o cartaceo, dopo la firma del Premier Draghi dal 1 luglio, diventa una realtà. Il Green Pass, rilasciato dal Ministero della Salute, si ottiene dopo la vaccinazione oppure dopo un test negativo oppure la guarigione da Covid-19. La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale stampabile dalla piattaforma nazionale. Quando la certificazione sarà disponibile, si riceve un messaggio via sms o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino, del test o del rilascio del certificato di guarigione. Il messaggio contiene un codice, autodentificazione, autocode e brevi istruzioni per recuperare la certificazione. Si può acquisire la certificazione da diversi canali in modo autonomo, con accesso tramite identità digitale Speed oppure con testera sanitaria o con documento di identità, se non si è iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o sms.